Sempre sorridente, con la battuta pronta, grande compagnone ed amante della vita, vogliamo ricordarti così, caro Costantino. Un grande uomo, amico leale, bravo giornalista, amato professore, marito, padre, nonno. Mancherai a tutti davvero tanto, mancherà la tua verba, la tua capacità di sdrammatizzare, il tuo saper ascoltare e dare il tuo fattivo contributo, il tuo affrontare di petto le situazioni, il tuo buon umore, il tuo grande sorriso. Costantino Pastore si è spento all'improvviso il giorno del Santo Natale. Ha dedicato la sua vita alla sua amata famiglia e al mondo della scuola. Era stato professore, restituto Enrico Fermi di Berletta, maestro di vita per tanti giovani e loro punto di riferimento e guida. Volto noto della TV locale, per tanti anni ha informato il pubblico d'attento cronista e bravo giornalista, conducendo telegiornali e programmi televisivi sulla nostra emittente sin dal finire degli anni 70, intervistando politici, personaggi del mondo delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dello spettacolo, dello sport. Il suo rapporto con il pubblico era subito di grande empatia, andando lui sempre al cuore del problema. Amava profondamente la sua terra e la sua città, per la quale si è sempre battuto, impegnandosi per la risoluzione di tanti problemi e questioni risolte, come la zona 167, rimasta bloccata per tanti anni, e la grande lotta per Berletta provincia. La politica, la sua grande passione, di cui conosceva bene le logiche e i meccanismi, il Consiglio Comunale di Berletta, il luogo privilegiato della sua attenta analisi amministrativa ed istituzionale. Una vita, la sua, vissuta pieno e sempre, con grande grinta ed entusiasmo. Il nostro è un ricordo speciale e commosso, per la perdita prematura di un grande collega, ma soprattutto di un grande amico, ed è per questo che ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia. Vogliamo ricordarti così, Costantino, mentre, dirompente, entri in redazione, portando il sole ed una ventata di buon umore. Addio, Costa.